A tutti ben ritrovati gentili telespettatori e benvenuti all'appuntamento con la nostra informazione che oggi inauguriamo con la cronaca e con un'importante operazione dei carabinieri denominata operazione TomTom, ha portato alla cattura di quattro individui responsabili di una serie di furti perpetrati nel sud Salento, dunque carabinieri del comando provinciale di Lecce che hanno operato nella fattispecie. Vediamo subito il servizio con la conferenza stampa. Non l'hanno fatta franca perché hanno incontrato sulla loro strada i carabinieri che hanno svolto quest'indagine al meglio con strumenti particolarmente sofisticati attraverso i quali si è riuscita ad identificare una ripetitività di azioni nel nostro territorio. Accanto a questi strumenti particolari abbiamo avuto poi, e non è cosa frequente, la collaborazione da parte dei derubati i quali hanno dato anche delle utili indicazioni. Questo è un aspetto importante, è un messaggio che io rivolgo ancora una volta ai cittadini, quando si collabora con l'autorità giudiziaria, con le forze di polizia, con la polizia giudiziaria, i risultati si ottengono. E continuiamo a parlare di carabinieri con una notizia di altro tenore sicuramente. È venuto a mancare all'età di 80 anni, nella giornata di ieri a Roma, il generale Antonio Viesti, ex comandante generale dell'arma dei carabinieri. Come dicevamo, il generale Antonio Viesti era nato 80 anni fa ad Ostuni ed era oramai a riposo da alcuni anni, viveva proprio nella capitale con la sua famiglia. Il generale Viesti nella mattinata di ieri si è sentito male, è stato accompagnato all'ospedale del Celio per sottoporsi ad un controllo, ma purtroppo ha avuto un arresto cardiaco ed è deceduto. Ricordiamo la figura della generale Viesti che ha assunto il comando generale dell'arma il 21 aprile del 1989, mentre continuano a scorrere immagini di repertorio relativi ad una serie di incontri avuti con il generale Viesti nella nostra emittente qualche anno fa. Dicevamo dunque il 21 aprile del 1989 al comando generale dell'arma dei carabinieri. Vi è rimasto alla guida per 4 anni, sino al 9 marzo del 1993. A 55 anni il generale Viesti è stato il più giovane comandante dell'arma, introducendo delle significative innovazioni come ad esempio l'istituzione nel lontano 1990 del raggruppamento operativo speciale, i cosiddetti ROS dei carabinieri. Nel 92 il comando carabinieri antifalsificazione monetaria. Dall'86 all'89 prima di assumere il comando dell'arma è stato sotto capo di stato maggiore dell'esercito. Viesti ha frequentato corsi regolari all'accademia militare, la scuola di applicazione, il corso superiore di stato maggiore, l'istituto stati maggiore interforze, tra gli altri incarichi ricevuti nel corso della carriera, il comando del 132esimo reggimento carri della divisione Ariete, il comando della brigata meccanizzata Granatieri di Sardegna. È stato inoltre decorato con la croce d'argento al merito dell'esercito per l'azione svolta nel quadro di un intenso programma di potenziamento di alcuni settori strategici fondamentali dello strumento militare terrestri, la difesa contro carri e contraerei, la mobilità tattica, la logistica, il programma Catrin, cioè il sistema integrato campale di trasmissione e di informazioni. L'ultima operazione di rilevo mediatico, se vogliamo, è venuta proprio sotto il comando del generale Viesti. Come tutti ricorderete il 15 gennaio del 1993 che portò la cattura del boss della mafia Totorina. Viesti ha mantenuto sempre un legame particolarmente stretto ed affettivo verso la sua città natale, Ostuni per l'appunto, dove tutte le stati trascorreva le sue vacanze nella villa di famiglia a Monticelli, proprio sulla costa della città bianca. Il cordoglio di tutta la redazione di TRCB alla famiglia del generale Viesti. Cambiamo argomento. Nella mattinata di oggi in prefettura a Bari, alla presenza del vice ministro all'interno, Filippo Bubbico, è stato sottoscritto con i prefetti della regione e il responsabile di poste italiane SPA, un importante protocollo di intesa per la prevenzione della criminalità negli uffici postali della regione Puglia. È uno strumento, come dicevamo, particolarmente importante, predisposto per rafforzare il coordinamento delle azioni di contrasto al fenomeno dei furti e delle rapine presso gli uffici postali. Vediamo. Il protocollo serve a rendere più efficace l'intervento delle forze di polizia e impegna anche l'amministrazione delle poste a rafforzare gli strumenti della difesa passiva e quindi a combinare questa doppia volontà. Da una parte l'impegno di quell'amministrazione e dall'altra condividendo modalità operative e sistemi di allerta per rendere più pronta e più efficace la risposta delle forze di polizia. Ovviamente parliamo di reati particolarmente odiosi che suscitano allarme sociale perché coinvolgono anche, diciamo, quei segmenti più fragili della nostra società, gli anziani in modo particolare. Poi i reati predatori sono particolarmente odiosi e devastanti e alimentano quel senso di insicurezza che alimenta a sua volta sfiducia. Quindi sono problemi che non devono essere sottovalutati, ovviamente tutto questo non deve distrarci dall'azione di contrasto rispetto all'aggressione delle organizzazioni criminali, delle mafie, ma dobbiamo agire perché venga recuperato quel senso di tranquillità che è doveroso garantire ai nostri cittadini. Brevi di cronaca della provincia di Brindisi, cronaca spicciola, la potremmo definire ma comunque è importante. A Brindisi i carabinieri della stazione Casale hanno arrestato un uomo e hanno deferito in stato di libertà i suoi due complici. Si tratta di Cosimo Massaro colto in flagranza di reato, mentre rubava all'interno di una villa tra l'altro di sua proprietà, ma gli era stata confiscata, rubava, come dicevamo, asportava meglio due alberi di palma dal giardino della villa stessa. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, i suoi due complici, un 25enne e un 36enne invece deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Sempre per la cronaca, Francavilla Fontana, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Francavilla, hanno avviato le indagini per tentare di individuare le reali cause di un incendio che la scorsa notte ha devastato quasi completamente l'auto di una 35enne del posto. I danni sono ancora in via di quantificazione, si teme chiaramente l'incendio doloso per cui indagano i carabinieri. Accade anche questo, i carabinieri della stazione Brindisi Casale hanno deferito in stato di libertà un 39enne ed una 27enne per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare di minori. I militari hanno accertato che i coniugi non avevano assicurato la frequenza obbligatoria scolastica del loro figlio, avendo maturato nell'anno in corso un numero di assenze ingiustificate, ben oltre il limite massimo. E dunque è partito il deferimento in stato di libertà. Cambiamo argomento e parliamo di rifiuti tossici. Il consigliere regionale del PDL Forza Italia, Antonio Scianaro, il fasanese Antonio Scianaro, chiede un'audizione proprio all'assessore all'ambiente Nicastro su una delicata situazione che riguarda la sua città natale. Fasano per l'appunto. Ascoltiamo. Il consigliere regionale del gruppo congiunto PDL Forza Italia, Antonio Scianaro, interviene sulla questione dei rifiuti tossici a Fasano, chiedendo un'audizione all'assessore Nicastro. Leggo da notizie di stampa locale, dice Scianaro, che sul territorio di Fasano sono stati individuati due siti di rifiuti tossici e per questo motivo ho inoltrato una richiesta al presidente del Consiglio regionale Onofrio in Trona, affinché si convochi, nell'apposita commissione, l'assessore regionale all'ambiente Lorenzo Nicastro, per informazioni in merito. La presa di posizione del consigliere Scianaro continua dicendo che queste notizie hanno creato allarmismo tra la cittadinanza e di conseguenza occorre fare chiarezza su qual è la reale situazione e quali provvedimenti si intendano adottare affinché non si danneggi l'immagine di un territorio ad elevata vocazione turistica, in questo momento poi in cui il comparto rappresenta la principale fonte di occupazione, ma anche di reddito di sviluppo economico cittadino, senza contare che il territorio di Fasano rappresenta per l'intera regione Puglia una delle attrattive maggiori a livello nazionale ed internazionale. Massima trasparenza negli atti pubblici, negli atti amministrativi degli enti, la chiede al prefetto di Brindisi Prete il consigliere regionale Euprepio Curto che ha scritto, come dicevamo, al prefetto di Brindisi Nicola Prete per denunciare il trasformismo come malattia di cui è storicamente affetta la politica italiana, dice Curto, che chiede al prefetto una costante verifica di tutti quegli atti politici, amministrativi o comunque burocraticamente sottoposti alla volontà dell'ente da cui potrebbero essere individuate direttamente o indirettamente. Azioni miranti a produrre utilità a favore di eventuali convertiti sulla via di Damasco, dice Curto. Ho sperato, continua ancora il consigliere regionale a lungo, che sindaci nuovi provenienti dalla cosiddetta società civile invertissero questa scandalosa tendenza, assumendo comportamenti e modelli di interpretazione delle regole del tutto refrattari a questa sconcertante situazione di degrado. Mi sono reso conto, conclude il consigliere regionale, che purtroppo le attese sono state deluse. Pertanto, visto che la politica continua a non capire i propri errori e quindi la necessità di assumere comportamenti non solo eticamente inappuntabili ma anche giuridicamente legittimi e leciti, non mi resta che rivolgermi appunto, dice Curto, all'autorità più importante sul territorio, all'autorevolezza del prefetto prete per controllare, per monitorare la situazione denunciata. Un altro consigliere regionale, Fabiano Amati, invece propone per la votazione, si prevede all'unanimità domani in assise regionale, l'introduzione della parola resistenza nello statuto regionale. Vediamo come. Nella seduta del consiglio regionale di domani, con la presentazione di un apposito emendamento di cui si è fatto promotore il consigliere regionale Fabiano Amati, si potrebbe modificare lo statuto della regione con l'inserimento della parola resistenza tra i valori fondativi della nostra Repubblica e quindi anche della Regione Puglia. Aggiungere questa parola non può comportare, dice Amati, lunghe gestazioni, poiché esprime concetti che fanno già parte del patrimonio culturale del nostro Paese e che per quanto riguarda la formazione specifica del consigliere Amati appartengono alla tradizione del cattolicesimo democratico e liberale. Amati, già firmatario di una proposta di revisione statutaria avanzata insieme ai colleghi Lo Sappio, Romano, Di Sabato, Pellegrino, Damone, Gianfreda, Negro, dice di essere sicuro che la proposta di revisione statutaria sarà approvata all'unanimità. Se solo si consideri che tutte le formazioni politiche presenti in Consiglio regionale affermano di trovare riferimento culturale nelle tradizioni del cattolicesimo politico, il liberalismo e il socialismo democratico. Parliamo ora di medicina, salute e società, vecchie e nuove dipendenze nelle giovani generazioni. È stato il tema di una interessante relazione tenuta dal dottor Vincenzo De Marco, che è un dirigente medico specialista in neurologia presso l'ospedale Perino di Brindisi, nell'auditorium dell'istituto proprio questa mattina. Ascoltiamo De Marco. E quando parliamo di dipendenze non ci riferiamo soltanto ad alcol e droga, che sono quelle più conosciute, più diffuse, di cui si parla di più. Ce ne sono altre. C'è la dipendenza da internet, non dimentichiamolo. La dipendenza dal cellulare, dall'iPhone, da tutti questi strumenti che diventano quasi indispensabili nella vita dei ragazzi, anche se poi indispensabili non sono. Quindi c'è questa forte dipendenza che li porta ad essere delle monadi, ad isolarsi sempre di più e a privarsi invece dei rapporti interpersonali necessari per il vivere civile all'interno di una comunità. Loro non se ne accorgono, è chiaro, per loro è normale usare in qualsiasi momento l'iPhone o tornare a casa e accendere automaticamente il computer per collegarsi, sono generazioni innate con questi strumenti. Però è bene che la scuola oltre a svolgere la sua funzione altamente importante di informazione e di istruzione, deve compiere anche quest'altra funzione, quella di porre i ragazzi, i giovani, le nuove generazioni di fronte ai molteplici pericoli che in una società così diffusa, così complessa li porta poi ad avere dei comportamenti compulsivi. Un personaggio che ha dato tantissimo alla cultura in Puglia, Vittorio Bodini, per il centenario della nascita organizzate diverse iniziative presentate questa mattina proprio presso la presidenza della regione Puglia sul lungomare Nazario Sauro a Bari. Vediamo di cosa è stato organizzato per questo importante centenario. Con molto piacere che sono qui, è una cosa che mi emoziona moltissimo, vedere che la regione in questo momento decida di in qualche modo spingere e portare avanti la figura di mio padre, è una cosa che non solo mi emoziona ma in qualche modo corona gli sforzi che sto cercando di fare da quando ho iniziato a occuparmi dell'opera di mio padre, quindi di mio padre come artista. Spero che questo significhi in qualche modo vedere tutta la regione Puglia unita perché sono a Bari oggi, quindi Bari, Lecce, senza questioni, senza conflitti, senza in qualche modo per un grande artista che secondo me ha fatto moltissimo per questa terra e ancora oggi è attuale ed è stato il portavoce di quello che in qualche modo è la realtà di tutta la regione, non solo salentina, anche se poi sicuramente con un'attenzione particolare al Salento ha descritto in modo sublime. Ed ora ci spostiamo a Mesagne per un evento religioso particolarmente sentito dalla comunità mesagnese per la loro patrona, la Madonna del Carmine. Vediamo. Anche quest'anno, a partire da oggi e sino al prossimo 20 febbraio, a Mesagne prende vita la novena celebrativa per il patrocinio della Madonna del Carmine. Nel suo intervento prodigioso, i mesagnesi hanno sempre visto la causa della salvezza di Mesagne dalle rovine terribili che il terremoto del 1743 portò in tutto il Salento. L'evento che appartiene nel profondo al tessuto culturale e religioso di ogni singolo mesagnese vuole essere un momento di comunione e di fede per tutta la città. Don Giuseppe Satriano, vicario generale e parroco della Chiesa Madre di Mesagne, esorta le comunità ecclesiali, gli amministratori cittadini a rivisitare la propria appartenenza identitaria sotto la protezione della Madre del Signore, sapendo leggere i segni che questo nostro tempo ci offre e avendo il coraggio di realizzare percorsi di conversione a quei valori evangelici, patrimonio della nostra cultura e sempre attuali nella vita sociale e religiosa del territorio. In tal senso è stato pensato un itinerario di riflessione che si vivrà lungo i giorni della novena. Con Maria radicati nella parola protesi verso la vita diviene la provocazione e la scommessa da realizzare per restituire al quotidiano quella coscienza etica, ricca di valori evangelici capaci di segnare l'esistenza di ciascuno e le relazioni comunitarie che contraddistinguono la vita sociale. L'augurio per tutti è quello di vivere giorni intensi nella riflessione e nella preghiera personale e comunitaria per far scaturire scelte di vita significative per il bene di tutti e di ciascuno. Intanto nel pomeriggio di oggi, alle ore 17, dalla Chiesa Madre muove una processione con la quale il clero guidato dall'arciprete Don Giuseppe Satriano, l'amministrazione e il popolo mesagnese si recherà alla Basilica del Carmine. Qui verrà prelevato il simulacro della Madonna del Carmine. E come per tradizione, prima di entrare nel centro storico, nella Chiesa dell'Immacolata, il sindaco Scuditti ufficierà l'antico rito della consegna delle chiavi. La processione continuerà verso la Chiesa Madre dove la patrona sosterà sino al 20 febbraio che è il giorno in cui si celebra il patrocinio. Questo pomeriggio alle ore 16 e 30 una delegazione di Prima l'Italia e di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale guidata da Cesare Mevoli, che lo ricordiamo è il coordinatore provinciale dei circoli Prima l'Italia, si recherà in via Martiri delle Foibe al quartiere Sant'Angelo a Brindisi. Per deporre un fascio di fiori, per onorare e degnamente ricordare, recita una nota stampa, il sacrificio di questi nostri fratelli. La città di Brindisi ha preso atto che occorre affrontare e risolvere soprattutto le sorti dei monumenti storici della città che sono patrimonio non solo del capoluogo ma di tutta la nostra regione se non dell'intero paese. Ebbene proprio ieri l'associazione ASD Friends Bike, Rinascita Civica Brindisina, il gruppo Archeo Brindisi hanno manifestato in bicicletta partendo alle 9.30 da Piazza Vittoria e pedalando sino a Forte a Mare, dove i partecipanti hanno fatto il punto della situazione e hanno illustrato le proposte per una gestione ottimale del bene monumentale in questione. E in difesa del castello Affonzino si muove anche l'associazione Brindisina Il Faro, che ha sede in Viale Commenda ed è preseduta da Raffaele Giove, diretta da Francesco Buongiorno, che ha lanciato nei giorni scorsi un appello specifico, sino a quando assisteremo impotenti di fronte allo scempio che avviene nella nostra città. Siamo preoccupati, recitava l'appello, per l'ennesimo caso di incuria che riguarda il castello Alfonsino di Brindisi, lasciato oramai nell'abbandono più totale, preda tra l'altro di innumerevoli furti che si stanno verificando negli ultimi tempi a causa della mancanza di sorveglianza nella struttura e, fra l'altro, ancora nel buio più totale, immersa nella sera, stante il mancato ripristino dell'impianto di illuminazione fuori uso da tempo. Ci piace ricordare che anche la nostra emittente, TRCB, sin dal suo inizio ha perorato la difesa, la salvaguardia, la destinazione d'uso di Forte a Mare, insieme al Tomaseo. E oggi anche del Castello Svevo, passato dalla Marina al comune di Brindisi il 9 gennaio scorso. Patrimoni storici di grande valore, purtroppo in alcuni casi in degrado, per incuria burocratica ma anche politica, se vogliamo. Bene, chiudiamo qui il nostro telegiornale per lasciarvi ora invece con le notizie dall'Italia e dall'estero, notizie in pillole, ma le notizie sicuramente più importanti del giorno, dei nostri colleghi di ADN e Cronos. Grazie ancora per l'attenzione. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Caso Marò, ulteriore rinvio dell'India-Svizzera sia alle quote immigrati Le Pen, bene il referendum, Renzi no a rimpasto come una lista della spesa. Ennesimo rinvio per il caso dei Marò italiani. La Corte Suprema indiana, che oggi doveva esaminare il ricorso italiano per conoscere i capi di imputazione, ha rinviato la sua decisione e fissato una nuova udienza. Si tratta di una richiesta inaccettabile, detto il premier Enrico Letta. Sulla stessa linea, il ministro degli esteri Bonino, l'accusa di terrorismo è sproporzionata. La Svizzera dice sì all'attento per l'immigrazione degli stranieri. È stato infatti approvato il referendum contro l'immigrazione di massa e si hanno raggiunto il 53%. Preoccupazione per l'esito del referendum è stata espressa da Lue una cattiva notizia. Dovremo riesaminare le relazioni, dice il ministro degli esteri francese Fabius, e Marie Le Pen, Lue, la ricatterà, ma giusta la tutela dei propri lavoratori. Matteo Renzi torna a ribadire il suo nettono all'ipotesi di un cambio della guardia a Palazzo Chigi, sostituendo Letta e facendo entrare nella compagine di governo ministri della propria area politica. E lui, il premier, deve decidere chi va o chi non va. Io non dirò mai che voglio posti per ministri o sottosegretari. No al rimpasto, come lista della spesa, afferma Renzi. Prosegue l'allerta maltempo sull'Italia. Criticità rossa per rischio idrogeologico in Toscana, scuole chiusi in Maremma, in Emilia, ancora allarme per il Secchia. Sono previste inoltre nevicate al di sopra dei 500-700 metri su Valle d'Aosta, Piemonte Liguria, Lombardia, fino a 200-400 metri sul Piemonte meridionale e sull'entroterra Ligure. La produzione industriale nel 2013 è scesa del 3% rispetto al 2012 a dicembre e tornata a calare dello 0,7 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Lo rileva l'Istat, la contrazione su base mensile dello 0,9. I settori che registrano i cali maggiori sono i macchinari, elettrezzature, industrie, tessili e abbigliamento. Oggi a Ginevra è il secondo round dei colloqui di pace tra il regime seriano e la coalizione dell'opposizione con la mediazione dell'inviato speciale di ONU e Lega Araba Abraini. Le posizioni delle due parti appaiono inconciliabili. Il regime esclude la possibilità di discutere della rimozione di Assad e insiste nel definire terroristi, ribelli. Per l'opposizione la transizione è l'unica soluzione possibile. Fabio Fognini, primo azzurro del tennis mondiale, vince il torneo di Vigna del Mar battendo in finale l'argentino Leonardo Meyer per 6-2-6-4. Per il 26enne Ligure che grazie al successo in Cile sale dal 15esimo al 14esimo posto della classifica ATP è il terzo titolo in carriera in 6 finali giocate. Notti insonni, addio. È stato messo a punto ed è disponibile online uno speciale cuscino antirussamento. Lo strumento rileva il rumore molesto e spinge chi dorme a cambiare posizione senza interrompere il sonno. Il tutto ha la non proprio modica cifra di 149,95 dollari. Il cuscino in poliuretano è dotato di un microfono integrato che capta le vibrazioni sonore. Il rumore fa gonfiare una camera d'aria interna che aumenta la profondità del cuscino di circa 7,5 centimetri, abbastanza per far spostare la testa o il corpo a chi dorme. In questo modo, cambiando posizione, si liberano le vie aeree e il rumore cessa. Il cuscino è dotato di un'impostazione ritardante. Una pausa di 30 minuti per consentire a chi lo usa di prendere sonno senza essere disturbato da improvvisi riconfiamenti. Una serie di pulsanti sul lato del dispositivo consente agli utenti di regolare la sensibilità del microfono in base al tipo di rumore emesso. L'alta sensibilità è consigliata per chi russa senza fare troppo rumore, mentre quella bassa per chi lo fa in modo pesante. Grazie. 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 Grazie.